Gli israeliani fanno tagliare l'erba, cioè fare in modo che si colpisca soprattutto Amasso, ovviamente, che è la preda che ancora regge la resistenza, ma non in modo troppo profondo, perché per Israele è importante che Amasso sia, quindi comprendo che questo è fatto. Il popolo palestinese è connesso da casa, e anche il cilgiordano, e il popolo palestinese è Israele, dallo Stato di Palestina, della West Bank, la Cilgiordania, come la vogliamo chiamare, oggi territori occupati, oggi in quei territori sono stanziati, è una carta sufficientemente grande, risale al 2006, nel frattempo le colonie sono molto aumentate, quelle parti scure che vedete, queste parti scure sono tutti gli insediamenti di ebrei israeliani che sono andati ad occupare le terre della Cilgiordania, e quindi ci sono delle strade che portano direttamente dalla Cilgiordania allo Stato di Italia e sono precludi l'erba di silenzio, con queste cose non venite solo perché non venite lì, perché le ho constatate di più sono, sei anni fa l'era giusta adesso e poi vanno a passare, ovviamente a noi sì, dopo leggeremo un paio di poesie, proprio un'era di malattia, di malattia, di malattia, in cui si racconta proprio quella che è l'umiliazione, anche come di fare...